Il secondo libro di Samuele. Vi consigliamo di guardare il video sul primo libro di Samuele, nel quale ci vengono presentati i tre personaggi principali, Samuele, Saul e Davide. Abbiamo anche dato un'occhiata alla struttura letteraria del libro, che prima introduce Samuele e poi traccia l'ascesa e la caduta di re Saul in contraposizione con l'ascesa di re Davide. Il secondo libro di Samuele narra la storia di Davide come re di Israele. La trama si suddivide in due fasi e a una stagione di successo e benedizione segue un fallimento morale di enormi proporzioni, segnato dalle sue tristi conseguenze. Il libro termina con una conclusione ben articolata, che rispecchia i momenti positivi e negativi della vita di Davide, generando la speranza in un re futuro che provenga dalla sua discendenza. Il secondo libro di Samuele riprende la narrazione dalla morte di Saul. Davide sorprende tutti, componendo questo lungo poema in cui piange la morte dello stesso uomo che aveva cercato di ucciderlo. Ancora una volta, l'autore ci mostra l'umiltà e la compassione di cui è capace Davide. È un uomo che si addolora persino della scomparsa dei suoi nemici. Dopo questi fatti, Davide vive un periodo di successi e benedizioni divine. Tutte le tribù israelite si riuniscono di fronte a Davide, chiedendogli di essere da lui unificate in qualità di loro re. Non appena diventa re, Davide si recca immediatamente nella città di Gerusalemme, la conquista e vi stabilisce la capitale di Israele, ribattezzandola Sion. A partire da quel momento, Davide vince molte battaglie ed espande il territorio di Israele. Dopo aver reso Gerusalemme la capitale politica di Israele, vuole che ne diventi anche la capitale religiosa. Fa dunque trasportare l'arca dell'alleanza nella città. Nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele, considerando che ora Israele ha una casa stabile, Davide dice a Dio di pensare che anche la sua presenza dovrebbe avere una dimora permanente. Pertanto chiede il permesso di costruire un tempio in onore del Dio di Israele. Dio ringrazia Davide per il pensiero, ma gli dice che di fatto sarà lui a costruirgli una dimora, una dinastia. Il capitolo 7 del secondo libro di Samuele è fondamentale per capire la storia della Bibbia nella sua totalità. Questo perché Dio qui promette a Davide che dalla sua discendenza regale verrà un re in futuro che costruirà il tempio di Dio sulla terra e fonderà un regno eterno. Ed è proprio questa promessa messianica a Davide che verrà poi ripresa e sviluppata ulteriormente nel libro dei Salmi e anche in quelli dei profeti. Ed è proprio questo re che si collega alla promessa fatta da Dio ad Abramo. Ovvero, per mezzo del futuro regno messianico, Dio porterà la sua benedizione a tutte le nazioni. Proprio qui, in mezzo a tutte queste benedizioni divine, le cose precipitano improvvisamente. Davide commette un errore fatale. Non fatale per lui, ma per un uomo di nome Uria, uno dei soldati più apprezzati di Davide. Dalla sua terrazza Davide vede la moglie di Uria, Bathsheba, mentre fa il bagno. Davide va a trovarla. I due vanno a letto insieme e lei rimane incinta. A quel punto prova ad occultare l'accaduto facendo assassinare Uria e sposandone la vedova. È semplicemente orribile. Dunque, quando il profeta Nathan affronta Davide riguardo a questa questione, egli confessa immediatamente quello che ha fatto. È devastato, si pente e chiede a Dio di perdonarlo. Dio lo perdona, ma non elimina le conseguenze delle decisioni di Davide. Il risultato di questa orribile scelta è lo sfacelo della famiglia di Davide e del suo regno. Questa sezione racconta l'evolversi di una storia tragica, proprio come quella della caduta di Saul. I figli di Davide finiscono per ripetere i suoi stessi errori, ma in modo persino più drammatico. Amnon abusa sessualmente di sua sorella Tamar. Il loro fratello Absalom lo scopre e fa assassinare Amnon. A sua volta ordisce un piano segreto per spodestare suo padre Davide e comincia una ribellione su larga scala. Così per la seconda volta Davide è costretto a fuggire dalla sua stessa casa per nascondersi nel deserto, ma in questa occasione non è innocente. La ribellione si conclude con l'uccisione del figlio di Davide. Con il cuore a pezzi, Davide ancora una volta si affligge per la morte dell'uomo che aveva cercato di ucciderlo. Gli ultimi giorni di Davide lo rivedono sul trono, ma come un uomo distrutto, ferito dalle tristi conseguenze del suo peccato. Il libro si conclude con un epilogo ben strutturato, composto da storie che non seguono un ordine cronologico, ma hanno una struttura letteraria simmetrica davvero eccezionale. Le due storie esterne riguardano l'inizio del regno di Davide e paragonano i fallimenti di Saula e quelli di Davide e il modo in cui entrambi feriscono gli altri a causa di pessime decisioni personali. Le due storie interne successive parlano di Davide e del suo gruppo di uomini valorosi che avevano combattuto contro i filistei. La cosa interessante è che entrambe le sezioni includono una storia sulla debolezza di Davide in battaglia. In contrapposizione al Davide vittorioso dei primi nove capitoli, qui vediamo un Davide vulnerabile che dipende dall'aiuto degli altri. Al centro dell'epilogo si trovano due testi poetici che fungono da memorie in cui Davide riflette sulla sua vita. Egli ricorda i tempi in cui Dio lo aveva misericordiosamente salvato dai pericoli. È consapevole che in quelle stagioni Dio era stato fedele alla sua promessa e al suo patto verso di lui e la sua famiglia. Entrambi i poemi si concludono con il ricordo della speranza, della promessa fatta da Dio di un re futuro che costruirà quel regno eterno. Questi poemi e la promessa di Dio a loro volta si collegano al cantico di Anna che apre il primo libro di Samuele. Pertanto questi passi chiave, all'inizio, poi al centro e quindi alla fine del libro, ne racchiudono tutti i temi. Nonostante il male perpetrato da Saul e Davide, Dio continuò ad operare per i suoi scopi di redenzione, opponendosi all'arroganza di entrambi, ma esaltando Davide nella sua umiltà. Dunque, la speranza futura di questo libro va ben oltre Davide stesso. Guarda al futuro, al re messianico che un giorno porterà il regno di Dio e la sua benedizione a tutte le nazioni. Ed ecco di cosa tratta il libro di Samuele.